Mi fa molto piacere essere qui in questa occasione perché ho conosciuto Ecco Pneus più o meno quando è stata fondata, quando c'erano ancora tanti problemi da risolvere e vedendo il rapporto che Simbo la presenta ho capito che molti di questi problemi sono stati risolti, mi incuriosisce però sapere quale percorso è stato fatto, a che punto siamo, dove stiamo andando, perché poi in fondo la questione è che riguarda tutti noi come cittadini di questo paese. Tra l'altro mi fa anche piacere sapere che sono stati superati tutti quei problemi che mi erano stati detti essere relativi al granulato utilizzato per i parchi gioco, è una questione che tocca molto noi mamme e quindi mi fa piacere insomma di capire che percorso è stato fatto e dove stiamo andando.